Musica Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers Noi siamo Di Amendola Brothers Ovvero Salvatore E Vanessa E siamo qui ragazzi quest'oggi per un nuovo video Come avete letto dal titolo Makeup Challenge Vanessa ragazzi si sottoporrà a questa persona Piccola tortura Si farà truccare da me Abbiamo un bel po' di roba Qua messaci a disposizione Dal canale Instagram QueensMakeup22 Trovate il link in descrizione Che non è niente proprio di meno Il canale di Vanessa Che fa il trucco Non so il flash è forte amore Allora questi saranno gli attrezzi Che useremo C'è un po' di tutto Io non so cosa sia Quindi userò Un po' di tutto E andremo a truccare appunto Vanessa E il suo bello Faccio Bello 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 Ora cambiamo La ragazzi Posizione Della telecamera Facciamo il primo piano A Vanessa E vediamo come andrà a finire Ragazzi Allora ragazzi vedrete solo Vanessa Di me vedrete le mani che gli fanno le cose durante il video Quindi allora come prima cosa Io ho visto qualche video di make up Prima di fare questo video Si dice che si deve fare una base Quindi si deve unificare il colore della faccia Quindi dovremmo usare del fondotinta Quindi guardando tra queste cose Che ci sono qua tante belle cose Dovrei trovare il fondotinta Il fondotinta mi sa che dovrebbe essere Una specie di Qualcosa di chi si spreme Quindi credo che questo sia il fondotinta Ma facciamo una cosa Prendiamo questo pisellino blu E lo spalmiamo in faccia a Vanessa Allora Prendiamo il prodotto con questa spugna così E lo schiaffiamo in faccia a Vanessa Mettiamo un po' qua Un po' qua Un po' qua Un po' qua Un po' sul naso Poi con la parte pulita Vi faccio pure il commentary Andiamo No dobbiamo spalmare tutto il prodotto Proprio secondo me Perché vedo che se no non viene bene Mi raccomando Fate attenzione ai capelli e sopracciglio E qua cancelliamo Mi aiuto Ho cancellato Dico ecco perché ti avevo toccato Occhio di gli occhi amore Ecco qua Aiii Date quando è già più bella E qua il mento non l'abbiamo coperto bene Ecco 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 Dobbiamo fissare il fondotinta E con certe cose io l'ho imparato Non è che non è Guarda dobbiamo fissare il fondotinta Per fissare Prima ci sarebbe un altro passaggio Un altro passaggio ci sarebbe Il correttore Quindi per il correttore Il correttore credo sia questo Lo apriamo così si apre Ah mi prude Che cazzo mi sto toccando Mi sto sparcando tutto Il correttore va messo dove ci sono le Cagatelle Così 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 Un po' qua Un po' qua Ok E basta Non c'è molto da correggere Perché la mia mano è perfetta Non girami Ah che succede se lo giro sto cosa? Ah esce altra merdina sfuri Che bello No Tu questo Non girarlo Tu questo mi dovevi dire Usiamo un'altra spugna Justo questa arancione Che è più colorata E andiamo a tamponare Un pochino così Però si vede troppo La differenza di colore Perché non serve per quello Ok Perché ti si vale Perché non serve per quello Però guarda Guarda un po' si sta sfumando Questo lo sfumiamo più sul collo E Vabbè Va bene Va bene E questo qua Su un naso Facciamo il naso dei puffi Questo sul collo Si sfuma un po' di meno Però non è Perché sono bagnati Sti cosi Lei mi ha detto Bagnami Beauty Blender E dice Che cacchio è Un Beauty Blender Se sapete che cos'è Un Beauty Blender Scrivetemelo nei commenti Perché io ancora lo devo capire Tocco finale Ora bisogna mettere La ciupria Per mettere la ciupria Prendiamo questo pennello qua E credo che questa È la prima cosa Che prende È la cipria Secondo me Questa è la cipria Sicuro questa è la cipria Mettiamo Mettiamo la cipria Guardate qua Ecco Prendiamo un po' di cipria E la spalmiamo Qua Dove Per fissare il fondotinto Ecco qua Sta diventando un po' più scuro Si sta abbronzando Oh amore Questo è un trucco Proprio Tipo Perché quella Non è cipria Clio make up Proprio Deve Secondo me Sono un giapia Michael Jackson Adesso Si Non la distra Che se lì De puoi fare Le rughette Non viene truccata bene L'occhio Chiudi l'occhio Amore Che fissiamo pure qua Mamma mia Aiuta Wow Si bella Amore Ora abbiamo messo la cipria Credo che per il momento La faccia Abbiamo messo la cipria Vada bene Ora dobbiamo Vediamo qua cosa c'è Questo è altro fondotinta Questo Che cos'è questo Questo c'ha anche una spugnetta Mettiamo Mettiamo Un 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 po' di sta roba Questo serve per fare il blush Questa è la cipria Non si vede Questo è il blush Io so i nomi Ma non so che cosa Cleo make up Sai che mi hai fatto a me Ecco Un po' Facciamo No Però basta Questo Metti a posto la spugnetta Metti a posto la spugnetta Che monta a casa Ti aspetta Ora dobbiamo Arrossire un po' Quelle guance Perché Così Così morte Non ma Questo che cos'è Lo vedo un po' rosso Quindi arrossiamo con questo Questo Prendete Ah come fanno le levere Prendete questo Della chicco E prendete un po' di prodotto Giusto un po' di prodotto Pennello Eh? Non è questo pennello Però a me piace questo pennello Perché Ma me l'hai sporcato Come faccio a toccarmi Queste altre volte Ormai gliel'ho sporcato Perché era piccolo e carino Perché questo è piccolo e carino Ecco E questo abbiamo finito Quindi penso che per Il contouring ti volevo fare Amore ma come si fa a fare il contouring? Eh ormai la roba per il contouring È già usata Perché non è sporcogliata Tutto il po' di tutta la faccia Questa che cos'è? Ho visto Questa credo sia per fare il No però Adesso passiamo agli occhi Dai Passiamo agli occhi E prima di tutto Mettiamo l'eyeliner Qui Ah aspetta Facciamo le sopracciglia Questa è per le sopracciglia Facciamo così Ecco fatto Parapapà Figli fanno Eh nel senso che Chiudila Se no si rompe Chiudila Se no si rompe Chiudila Se no si rompe Ah chiudila questa Tra poco salvatore Buscavani Ok Le sopracciglie ci siamo Ora passiamo agli occhi Per gli occhi Allora scegliamo un colore Che c'entri con quello Che abbiamo già fatto Questo Chiudi gli occhi amore E iniziamo a fare così Mi raccomando Molto sfumato Leggero Perché altrimenti Sembra che gli hanno fatto Un occhio nero E voi lo sfumate così Ok No Girati verso la telecamera Ma guardate là Guardate il Ora la matita Cioè l'eyeliner Allora Qual è l'eyeliner? Quello che stavamo cercando Di capire prima Questo è l'eyeliner Sì questo è l'eyeliner Questo ragazzi È l'eyeliner Del studio Lash Miss Sporty Trovate il codice sconto In descrizione Chiudi bene l'occhio Muselo qua Ti faccio male Lo facciamo tipo Cleopatra Glielo allunghiamo così Quando vai? Se la banana non ce l'hai Stavo paura Non ti muove Stavo paura Eh non ti muove Se ti muove mi fai sbagliare Stavo paura Stavo che così Alla bene così Stava venendo bene Se non ti muovevi Ok Ora Una volta fatto questo Una volta fatto questo Cosa aggiungiamo? Sì Per far Ah aspetta Sempre con l'eyeliner Ne approfittiamo che è nero Facciamo un bel neofinto Alla Marilyn Monroe Che ce l'aveva qua Vabbè tu Cioè Tu sei il più bello Di Marilyn Monroe Ah l'illuminante Mi scordavo l'illuminante Sempre di Kiko Chanel L'illuminante Questo va Spiattellato Un po' ovunque Perché illumina la faccia Questa Ok È una palata discoteca Sono diventata Gli alieni Mi vedo Ora un po' Eh Ah vedi Questa quant'è bella Amore mia Ora mettiamo Guarda cosa c'è Il brillantino Che cosa serve questo? Ah il mascara No Che cosa è questo? Il rossetto Che E dove si mette questo? Uno brillantino No È un ombretto Brillantino Ah E mo ti ho fatto un altro Un ombretto brillantino Bravo Questo è proprio lo stesso colore Di quello che abbiamo messo all'interno Ah Bella Vedi Ok Però Con l'eyeliner Mi sa che ti devo fare pure le sopracciglia Perché sono un colore un po' strano Vabbè Lasciamole così Che è bella lo stesso Ora il rossetto Passiamo al rossetto E prendiamo un colore Che ci azzecca Con tutto il resto del trucco Che abbiamo fatto Prendiamo questo Prendiamo questo Scusami un attimo Mi hai fatto il trucco Viola Mi metti il rossetto Arancione Eh Ci azzecca Il rossetto Lo mettiamo Ovviamente Serve pure per modificare La forma delle labbra Se non ci piacciono Le rosse Quindi facciamo un po' più Carano Le labbra Sono tutto Pall'indenditore Proprio Spalmatelo un po' Comune Ora per Lei è Miranda Sint Ora per Dove sta il tappo Ora per valorizzare Di più il rossetto Tocco finale Prendiamo il mascara Non fanno così Un po' di prodotto Se non lo posso usare Neanche domani Amo se non lo metto Amo se non lo metto Fatti piùvi Non ti allontanare Amo mi fai sbagliare E poi viene una chiavica Ah perché se no invece Sto venendo benissimo Marilyn Monroe Passati proprio Ecco Ha dato tutto un altro trucco Questo qua Ok Credo che Vada bene Così adesso Vi faccio vedere La reazione di Vanessa Quando si vedrà Allo specchio Adesso vedrete La reazione di Vane Quando si vedrà Allo specchio Perché ci Sposto la telecamera E la imposto A telecamera frontale Quindi 3 2 1 Amore Ma Ma la vedi Quanto sei bella No Amore Ti devi truccare Tutti i giorni Così Ma le sopracciglia Cioè Ma scusa Le sopracciglia Dovevi semplicemente Colorare In mezzo Cioè Mi hai fatto Le sopracciglia Più grosse Delle tue Eh Perché così Siamo simili Amore Ma perché E questi Ho la fortuna Di non avere Carinei Ma questi Rendono simpatica Amore L'eyeliner Ammettilo Ha fatto un trucco Alla Ma Ma Orfei Ma Ma Orfei Si Si Trucava Meglio Beh Effettivamente E ragazzi Questo è il trucco Della Vane Arriviamo a 5000 like E no 1000 like Vanessa Truccherà a me Quindi Tu sarai sicuramente Più figo di me Ma quando mai Tu non Non mi sei truccare Se il video vi è piaciuto Quindi lasciate un bel Mi piace Condividete su facebook Twitter Google plus E comunque Condividete Mandatelo a tutti gli amici Di Cesena Così L'Avane Sarà famosa Per il suo splendido Trucco Come al solito Se per caso Poi il video Non vi è piaciuto Non vi è piaciuto Può capitare Che non vi sia piaciuto Da parte di Clio Makeup Che mi ha fatto Il tutorial Per questo video Grazie ragazzi E al prossimo video Ciao E io Baccino Que bella Buonimì Attenzione Attenzione Iscrivetevi Al canale Degli Amendolas Brothers Attenzione Attenzione Chi non si iscrive Al canale Stasera Muore Attenzione 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 Grazie a tutti.